Ci troviamo a Villa Caprile, sede dell'Istituto Agrario Cecchi, perché verrà inaugurata una nuova aula, un'aula multimediale 4.0 donata da Rotary Club Pesaro. Prima di tutto va il ringraziamento al promotore di questa iniziativa, l'Avvocato Camillo Piazza Spessa, che purtroppo non è più con noi, ma che lo ricordiamo con tanto affetto e ha creduto in questo progetto. Si è fatto promotore e abbiamo realizzato un'aula 4.0 per una didattica innovativa, quindi un approccio all'insegnamento e all'apprendimento diverso, molto più vicino a quelle che sono le esigenze degli studenti di oggi. Ovviamente l'aula non è più aula in sé per sé, ma diventa un vero ambiente di apprendimento, diventa un sistema formativo integrato, permette agli studenti di poter gestire al meglio i contenuti digitali. Inoltre devo dire che la didattica innovativa, le nuove tecnologie e quindi questa alfabetizzazione informatica digitale ha dato un grandissimo aiuto alla scuola e l'abbiamo visto con l'emergenza pandemica. Il progetto nasce da un'idea e dalla lungimiranza del nostro socio Camillo Piazza Spessa, è investire nei giovani, trovare i loro talenti, sviluppare i loro talenti e fare in modo che le nuove generazioni abbiano delle possibilità per realizzare quello che vogliono. Credo che sia molto importante sottolineare, questa è una mia opinione personale, che laddove c'è cultura c'è libertà e questo è molto importante secondo me. Le aule purtroppo che abbiamo nei nostri istituti, non queste in particolare che è una dei più belli, se non altro per la location, sono piuttosto vecchiotte, non sono cambiate molto negli ultimi 20-30 anni, in molti casi, a volte ci sono degli esempi nuovissimi, ma la maggior parte sono proprio strutture vecchie e non sono solo vecchie dal punto di vista funzionale, anche come immagine, cioè uno che va a scuola c'è sempre un po' quella piccola tristezza di andare in questo locale un po' antipatico. Vogliamo che succeda al contrario, vogliamo che questa aule, queste tipologie di aule, rappresenti non solo il futuro dal punto di vista informatico, cioè della connessione con il mondo, e credo che ne avrete già parlato, ma che rappresenti anche un posto dove si va volentieri, dove c'è un ambiente piacevole, dove un ragazzo dice sto meglio qui che in un club o che ne so, o in un posto o in un bar, o a casa mia addirittura, vado più volentieri a scuola che altrove. Ecco, questo è un obiettivo a cui miriamo, quindi ci deve essere un design molto moderno, che però fa i conti con il luogo in cui ci troviamo. Questa è una villa del Seicento, ci sono delle fresche strepitosi e allora abbiamo pensato di fare una cosa, e questo io sono molto contento insomma di averlo fatto, che riprende dei pezzi di questa architettura e di questi decori storici seicenteschi che rientrano in forma moderna nella nuova aula. Grazie a tutti.